Ciao a tutti e benvenuti in questo quarto, quinto, non so, episodio del Flipper Zero. Oggi parliamo di Wi-Fi, parliamo di Devboard e della possibilità per il Flipper Zero di agire, quindi leggere, scrivere, deautenticare, fare attacchi di qualche tipo, sul Wi-Fi a 2.4 GHz. E come lo fa? Lo fa attraverso un ESP32 S2, quindi è la versione appena prima di quella che c'è sul nuovo Arduino Uno, un ESP messo qua su questa che si chiama Devboard, che contiene un po' di circuiteria che non ci interessa particolarmente perché è comunque relativa all'ESP, ci sono due pulsanti che sono anche loro relativi all'ESP, sono Boot e Reset, e tra un attimo li utilizziamo, la porta USB-C per andare a programmare l'ESP e più tutto il pinout, qua, tutti i pin, i collegamenti, per inserire questa scheda all'interno del Flipper. Cosa che non faccio ancora perché non c'è un firmware, questa roba qua. Allora, l'ESP32, lui, è probabilmente più potente che non il Flipper, addirittura. È un microcontrollore per i fatti suoi e agirà per conto suo. Noi del Flipper possiamo solo passargli dei comandi, cosa che potremmo fare anche attraverso un computer, anche attraverso un telefono, direttamente a un ESP qualsiasi che costa pochi euro. Ma se ci troviamo in mobilità e abbiamo un Flipper sotto mano, potrebbe essere comodo avere un ESP che si può connettere al Flipper e potergli inviare comandi dal Flipper. Quindi vorrei che intanto questa cosa fosse ben chiara, per cominciare il video, che non stiamo aggiungendo il Wi-Fi al Flipper, ma stiamo connettendo un'altra roba intelligente che ha Wi-Fi e Bluetooth per conto suo e sulla quale andremo a installare il suo firmware che fa cose e alla quale il Flipper può comunicare, inviare dei comandi. Cosa si può fare con il Wi-Fi attaccato a un Flipper? Un po' di attacchi, come vi dicevo prima. Adesso li vediamo nel dettaglio, ma a meno che navigheremo nei menu, prima dobbiamo installare il firmware, perché chiaramente questa devboard è quella originale, quella di Flipper, quindi non può contenere roba malevola o comunque del firmware che nelle mani sbagliate possa essere in grado di fare cose brutte o aiutare a fare cose brutte e quindi l'ESP adesso dobbiamo programmarcelo noi. Piccolissima considerazione però sulle schede che si inseriscono nel Flipper. Ne esistono di tantissimi tipi, le principali sono tre, quattro, tre, più o meno, tre e mezza. Abbiamo le schede con ESP32 e voi direte, ma ESP32 c'è già sulla scheda default? Che me ne faccio di comprarla di terze parti? Magari costa un po' meno? Sta qua costa sui 30 euro? No, non è tanto una questione di costare meno, quanto di poter integrare gli ESP che vuoi tu con anche la possibilità di attaccare antenne esterne. Perché questo ESP che troviamo nella scheda ufficiale, che infatti ha anche il delfino disegnato qui, ecco lui ha un'antenna Wi-Fi che è all'interno di questa parte nera di PCB. Vedete un po' di serpentino in rilievo? Quella è la sua antenna Wi-Fi, non potentissima. L'ESP di suo ha la possibilità di connettere antenne esterne, se è l'ESP della forma giusta, e quindi creandosi una scheda personalizzata con l'ESP che ti scegli tu e che abbia la possibilità di attaccare un'antenna esterna, ci puoi poi attaccare un'antennone Wi-Fi grosso così e sniffare il traffico dall'altra parte della città. Non solo con ESP32 in questa prima categoria, ma anche con ESP8266, che è una vecchia versione dell'ESP molto più economica, non era 32-bit, non aveva il Bluetooth 4.3, insomma è il vecchio ESP molto meno potente. Ve lo nomino solo perché tra un attimo lo vedremo nei menu. Quindi queste erano le schede con ESP. Poi ci sono le schede con il CC1101, che sarebbe quello stesso modulo che parte del flipper ci permette di usarlo per il sub gigahertz, quindi il flipper ha già dentro di sé un CC1101, ma mettendo un CC1101 esterno si può alimentarlo con più potenza, si può anche in questo caso attaccargli antenoni esterni e anche in questo caso aprire i cancelli dei condomini dall'altra parte della città. Legale farlo? Assolutamente no. Poi ci sono le schede con NRF24L01, che è un chip molto interessante che approfondiremo in futuro. Lui, questo qua è un NRF24L01, senza antenna esterna. Ne ho anche due o tre con l'antenna esterna. E queste erano le tre categorie principali, e poi la mezza categoria aggiuntiva è schede che abbiano un botto di LED a infrarossi e che anche lì riescano a emettere infrarossi con elevata potenza, a differenza del cosettino a infrarossi che c'è qua, che è potente ma non così tanto. Cioè tipo, io ho il condizionatore lì, se punto l'ESP dall'altra parte non mi accende il condizionatore. Cioè non riesce a illuminare il muro della stanza abbastanza che poi con il riflesso il condizionatore lo veda. Devo puntarlo dritto. Perché non è così potente questo LED? Vendono delle schedone di terze parti con un tondone così, tutto di LED, che quando le accendi ti illumina le cose, e allora fai diventare verdi i semafori in America, oppure semplicemente accendi il condizionatore senza dover puntare il flipper nella direzione giusta. Bene, finito questo piccolo excursus sulle schede di terze parti. Parliamo dell'ESP che, bene ma non benissimo, nel senso, lui è un ESP32 S2 vi ho detto. A parte che non è l'ultimo perché Arduino Uno ha ESP32 S3, ma Expressif, l'azienda che produce gli ESP, ha già cominciato a rilasciare degli ESP che lavorano sia a 2.4 GHz, sia a 5 GHz come frequenze. E siccome il Wi-Fi a 5 GHz è sempre più diffuso nel mondo, sarebbe stata molto interessante la possibilità di gestire anche questo tipo di frequenze e di fare attacchi anche su questo tipo di frequenze con il nostro flipper attraverso l'ESP. Comunque possiamo fare cose piuttosto interessanti. Ad esempio, grandissimo, classico per i flipper, potrei fare l'attacco che si chiama recrawl qua nel menu. E se andassi a confermare, starting recrawl beacon spam. Cosa fa questa cosa? Se andassi dal mio iPhone a guardare le reti Wi-Fi disponibili, guarda qua ci sono tutte le frasi, come si dice, della famosa canzone Never Gonna Give You Up che nell'internet è diventata famosa perché è usata per trollare le persone, farla comparire quando uno meno se l'aspetta e tutte cose. Però guardate in quanto tempo, cioè con un solo click, un cosettino piccolo come l'ESP 8266, che è letteralmente questo rettangolino nero, cioè tutto il resto di baracca è solo per dare questa istruzione all'ESP, ma se l'ESP fosse alimentato da una batteria d'orologio, potrebbe fare esattamente la stessa identica cosa con un cosettino grande letteralmente la metà di un orologio. Ma questo mini esempio, che a prima vista può sembrare non gravissimo, è per mostrarvi quanto sia facile fare cose potenzialmente cattive con l'infrastruttura internet, le reti internet, il Wi-Fi, e finché crei delle reti Wi-Fi con i nomi stupidini è un conto. Ma se creassi tipo 50 reti Wi-Fi, tutte con lo stesso identico nome di una rete Wi-Fi vera, esistente in questo luogo, ad esempio la mia rete Wi-Fi di casa, ma immaginate se fossi in un luogo pubblico. Potrei creare 50 reti Wi-Fi tutte con lo stesso nome e poi lanciare un attacco di tipo D-OUT, quindi deautenticazione, ai dispositivi connessi alla rete Wi-Fi vera. Ne abbiamo già parlato in video passate di hacking. Che cos'è il D-OUT? È un pacchetto, essenzialmente, che mandano i router, che dice a un dispositivo connesso, Ehi tu, vattene! E il dispositivo connesso prende paura e dice, Ok, mi disconnetto, aspetta un attimo. È una cosa che è implementata nelle reti Wi-Fi, esiste, ha una sua utilità pratica, del fatto che un router possa cacciare un dispositivo, ma se fosse il mio ESP a fingersi il router e a cacciare i dispositivi, quelli prendono paura, si disconnettono, dopo qualche secondo dicono, Ma, non c'era nessun problema, aspetta che mi riconnetto. E a quale rete Wi-Fi però ti riconnetti, visto che adesso ce ne sono 50 con lo stesso nome, e 49 su 50 sono reti create ad hoc per rubarti le password appena ti connetti. Ma questo è solo grazie al fatto di avere il firmware che si chiama Marauder, che è appunto una suite di strumenti un po' cattivelli che si può installare nell'ESP, e bisogna averlo installato per fare tutta sta roba. Quindi direi che il flipper va un attimo da parte, computer alla mano, connettiamo questa dev board da sola, e installiamo Marauder. Ok, si è scaricata la fotocamera qua sopra, comunque devo tenere premuto il tastino con scritto boot, lo tengo premuto mentre vado a inserire la porta USB, lo tengo per altri 2-3 secondi, giusto per essere sicuro, e dopo lo mollo. In teoria, se ha funzionato, non dovrebbe esserci nessuna luce accesa sul LED dev board, perché se l'ESP parte in modalità normale, invece c'è un LED blu che si accende durante l'avvio e dopo diventa rosso. Invece se non c'è il LED rosso, va bene così. Allora, detto questo, ci sarebbe un modo molto semplice per installare il firmware, dal grandissimo Uber Guidoz, che è quello che ha anche fatto tutti i repository di cose utili per il Flipper. Letteralmente c'è da scaricare un file zip, che ha questa roba come contenuto, e poi fare doppio clic su flash.bat, con l'ESP connesso, e poi ti guida, cioè ti esce una finestrina di terminale, che però ti spiega con tante scritte, ti fa il menu, dice se vuoi installare sta roba premio 1, se vuoi installare quest'altra premio 2, solo che non sono su Windows, e quindi vi mostrerò il metodo più generale, più generico. E lo farò usando questo SpaceHan Web Updater. Web Updater che aprirò subito, in un'altra tab, eccolo qua, posso già premere Connect, e andargli a connettere l'ESP, ok, che il mio Mac vede, quindi è già un passo avanti. Si sono connessi? Oh yes, perfetto. E poi dobbiamo caricargli 4 file, per 4 partizioni diverse, 4 posizioni di memoria diverse, in cui installare cose. Solo che queste posizioni di memoria sono, allora, in base al kit che avete, ok, bisogna scegliere le posizioni giuste. Nel mio caso è la Wi-Fi Dev Board, quella normale. V1 tra l'altro, quindi sono 1.8000, e con tanti zeri, 10 con tanti zeri. Perfetto. Quindi quelle default sono giuste. Cosa devo andare a installare in queste posizioni? Essenzialmente i file che trovo a questi link. Adesso questa pagina ve la lascerò ovviamente in descrizione. Allora, alla posizione 1000, va installato sto file. Quindi clicco, lo scarico, e glielo seleziono di qua. Opla, il bootloader. Poi, alla posizione 8000, va messo il file partitions. Alla posizione E000, va messo boot up. E alla posizione 10.000, va messo, qui dobbiamo andare a sceglierlo, in teoria, flipper.bin. Poi, tutto il discorso scheda SD, magari lo vediamo nel prossimo video, perché mi sa che la questione Wi-Fi è abbastanza lunga, che dovrò dividerla in due episodi, perché poi i dati che catturi quando fai lo sniffing del Wi-Fi, dovresti salvarli da qualche parte, ma questa deathboard non ha una scheda SD in cui salvarli, quindi volendo si aggiunge una scheda SD, ma poi ne parleremo. Intanto vado a scaricare questo, glielo seleziono, e glielo sparo. Vai! Mi fa anche la percentuale. Ok, mi dice che devo resettare il dispositivo per far funzionare i firmware, quindi se lo staccassi, e lo riattaccassi, almeno me la fa la lucina blu? Oh, yes! Ok, ok, ok. Bene, via il computer, recuperiamo il nostro flipper, e andiamo, vabbè, intanto a togliere questo tappino che ho stampato in 3D, se volete vi lascio il link in descrizione, perché si è semplicemente un tappino per le porte del flipper, perché non ci va da polvere dentro. L'ho messo anche dal lato della scheda SD. Quindi una volta liberati i pin General Purpose Input Output, che ci sono qua sopra, ci posso andare a cacciare la scheda dentro. Allora, mettiamolo subito in chiaro, sarebbe buona pratica non inserirla a caldo, cioè spegnere il flipper, attaccarla, e dopo accendere il flipper. Così come sarebbe buona norma fare la rimozione sicura delle chiavette dal computer, quando dovete staccare una chiavetta. Ma essenzialmente la vita è troppo breve, quindi, opla, mi esce un LED azzurro, super sparaflescioso, che diventa verde, e poi cose varie. In teoria, adesso, con il firmware Marauder caricato, possiamo andare nella sezione applicazioni, Wi-Fi, ad aprire Wi-Fi Marauder. Pausa! Vedete che qui ci sono diverse applicazioni del Wi-Fi. Per ESP32 c'è solo il Marauder. Invece ne troviamo un sacco, a quanto pare, per ESP8266, la versione vecchia e sfigata, che vi ho detto prima, e poi c'è questo Wi-Fi scanner, ok? Perché per ESP8266 ce ne sono di più? Perché sono molto limitate, essenzialmente, a parte che c'è di Outer, è di Outer versione 2, quindi, già qua è la stessa roba. Questo qua è solo un pulsante virtuale, per If, If, Distant That, è un carino sito di domotica, ma essenzialmente, comunque, l'ESP8266 è meno sviluppato, che non l'ESP32, perché l'ESP32 è anche quello nativo, che ti dà la Flipper, quindi la community ha sviluppato più roba, tipo questo Marauder. Vado a selezionarlo, allora, ecco, 50% delle volte, il Flipper si riavvia. Ve lo preannuncio già, ho fatto un tot di prove, crash proprio, Flipper è crushed, non c'è vero, cioè, non avete fatto niente di sbagliato, se vi si spegne il Flipper, è proprio il Marauder che fa un po' schifo, o almeno, deve avere qualche bug nell'avvio, ecco, l'ho riaperto, e adesso funziona. Non è per il fatto che ho attaccato la scheda a caldo, è semplicemente così, ogni tanto crash all'apertura. Bene, qui abbiamo una lunghissima lista, se vedete il cursore sulla destra, quanto piccolo è, abbiamo una lunghissima lista di comandi, che possiamo mandare al nostro Marauder, che vive all'interno dell'ESP. Ad esempio, si può chiedergli di mostrare i log dall'inizio, o di mostrare i log dalla fine, si può fare una scansione di Access Point, si può fare una scansione di Stations, qui si può fare tutta una serie di attacchi, come quelli che vi ho mostrato prima, selezionare una rete Wi-Fi specifica, qui c'è proprio la sezione Attack, che contiene attacchi di deautenticazione, attacchi probe, è il famoso ricroll, si può fare attacchi mirati, si può fare beacon spam, sniffing, un sacco di roba. Penso che approfondiremo tutto nel prossimo video, perché questo video, secondo me, ha già comunque la sua degnitosa durata. Non voglio fare episodi da 25 minuti, che poi ne guarda solo i primi quattro, e l'algoritmo si arrabbia. E potremmo proprio cominciare con uno scan di Access Points, ad esempio, se mi posizionassi su questa voce, e premessi il centrale, vedete che il leddino sul board si illumina, qua succedono cose, lui sta trovando tutte le reti Wi-Fi disponibili nelle vicinanze, me le scrive tutte, resta comunque in scansione, finché non gli premo il tasto back, direi che ha avuto sufficiente... Enoteca? Dove è un'enoteca qua vicino? Premo il tasto back, comunque lui dovrebbe aver caricato in memoria tutte le reti che ha trovato, e se andassi giù su list access points, le trovo tutte. Numerate, questo numero ci sarà molto importante, nel secondo episodio dedicato al Wi-Fi, vedete che la rete numero 0, questo qua è proprio un numero in ordine, però ci servirà per selezionare appunto la rete da attaccare, la rete numero 0 è questa Vodafone, la rete numero 1, sul canale 6, è questa Wind, tra cose varie, la rete numero 2 non ha nome, trova solo il MAC address, la rete numero 3 è questo Wi-Fi straporque, la rete numero 4 è un altro Vodafone, e così via, per tutte le reti nelle vicinanze. Se ne sono parecchie, quante ne trovate? 12, 13? 19, 19 reti ha trovato, in un attimo di scansione, e con la sua antennina piccola della PCB, e appoggiato su un tavolo, che ha comunque la struttura metallica, che quindi un po' scherma, e vabbè cose varie. Guarda, vi anticipo giusto, in conclusione ho questo mini episodio, che era dedicato a installare il firmware, perché poi ci sarà veramente da fare tantissime robe qua nel menu, quindi è meglio dedicarci un video separato, ma vi anticipo, che con il select che trovo qui, posso, se premo il tasto centrale, mettere pollice sul video, se il video vi è piaciuto, ma in realtà, premendo il tasto centrale, voi mettete pollice in su, visto che ci siete. Vedete che, quando vado a premere questo, un select, mi sta proprio scrivendo un comando, che è select-a, e poi gli vado a dire, ad esempio, la rete numero 5, di quelle che aveva trovato. Quindi, sono proprio comandi di testo, che il flipper invia all'ESP, e dopo l'ESP, si preoccupa di fare le sue robe. Questi comandi di testo, potremmo inviarli anche da un telefono, banalmente, connesso via USB all'ESP, potremmo inviarli da un computer, connesso anche lui via USB, o via Bluetooth, comunque, il flipper è comodo per avere questa roba in mobilità, ripeto, ma non è sicuramente lui il colpevole. Comunque, quando vado a premere save, in realtà, non sta proprio salvando, ma sta semplicemente inviando questa stringa, quindi boom, viene inviata, l'ESP risponde, 1 selezionato, 0 deselezionati, posso tornare indietro, e se andassi sulla lista, ho la rete 0, la rete 1, 2, 3, 4, e la 5, vedete che c'ha, tra parentesi, scritto selected, adesso. Quindi, la rete numero 5, sarà quella che poi è salvata come obiettivo, come target, come destinazione, dei vari attacchi, che vedremo nell'episodio numero 5, 6, non lo so a quanto siamo arrivati, pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, perché sennò vi perdete i video che escono in futuro, che sono molto interessanti, sicuramente. Per questo video è tutto, ciao a tutti. e... Grazie a tutti.